Buonasera ragazzi, qui è Giustizio e noi siamo tornati con un nuovissimo video dedicato sempre agli oro Ragazzi oggi è uscita un'altra tranche dal sessantesimo alla quarantunesima posizione Dalla sessantesima alla quarantunesima Quindi andiamo a commentarli un po' insieme Mi raccomando vi ricordo di seguirmi su Instagram ragazzi Fondamentale per rimanere aggiornati su quando faccio le live Su quando escono i video, tutto quanto Giustizio yt, seguiamo Quindi mi raccomando perché vi metto pure le notizie di FIFA in anteprima Mi raccomando Allora oggi andiamo a parlare appunto della posizione sessantesima, la quarantunesima Ci sono diversi giocatori interessanti Già ci ho dato un primo sguardo perché ci stanno i giocatori dei miei pupilli ragazzi Dei miei pupilli che non potevo resistere, non potevo resistere a vederli E niente ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace Bando alle ciance, non perdiamoci in chiacchiere come ormai dico sempre E andiamo con questi Posizione numero 60 ragazzi troviamo Sadio Mané Il nostro, già iniziamo col botto ragazzi Perché Sadio Mané nonostante, cioè gli hanno dato un più 2 che non è di certo da buttare Si ritrova con un 94 di velocità che non so se è stato downgradato Mi pare di sì Però come abbiamo visto già ieri questa downgrade della velocità Sembra essere un fattore un po' comune a tutti quanti i giocatori 87 di dribbling per lui, 80 di tiro, 76 massaggi e 73 di fisico La cosa interessante però di Sadio Mané ragazzi sono le 4 stelle di piede debole Che io sono sicuro che non avesse l'anno scorso L'anno scorso aveva 3 stelle ed era una sua pecca perché erano 3 stelle un po' fasule Erano più 2 stelle e mezzo secondo me, almeno provandolo personalmente Questa è l'impressione che mi ha dato l'anno scorso 4 stelle ragazzi è un bel upgrade Quindi occhio a Sadio Mané che potrebbe essere ancora più devastante Ovviamente costerà un botto EAS, EAS Quindi le 4 stelle di piede debole potrebbero essere un po' più utili Dato che lui è destro Andando avanti troviamo Perisic Me l'avevate chiesto ieri dove è Perisic Eccola qua Perisic 86 di overall per lui 86 di velocità, 83 di living, 80 tiro, 80 passaggio, 78 fisico 5 di piede debole e 4 di skill ragazzi Occhio a questa carta Occhio a questa carta perché mi sembra molto ma molto interessante Perché Perisic è un giocatore anche forte fisicamente Ma 86 di velocità Soprattutto con questi downgrade continui alla velocità che stiamo vedendo Non è affatto male E in più 5 stelle di piede debole Vi ripeto esterno sinistro Vuol dire che potete andare sul fondo e crossare molto molto bene Quest'anno i cross sono P Quindi occhio a Perisic che è tanta roba Andiamo avanti perché troviamo Varana ragazzi Anche lui è uno che sul calcio d'inizio mi aveva impressionato Infatti lo ritroviamo 86 ma soprattutto lo ritroviamo con 84 di velocità Che è tantissimo Soprattutto vi ripeto perché vedremo anche altri giocatori Che sono stati downgradati a livello di velocità Quindi occhio a Varana 84 velocità 86 fisico 86 difesa Scusate 80 di fisico Tanta roba Varana Vedremo anche un altro francese Che potrebbe fare coppia con Varana ragazzi Che sono due Uno più buggato dell'altro Buggato relativo perché 86 costerà un bel po' Varana Soprattutto all'inizio Andiamo avanti perché c'è lui ragazzi C'è il mio dio C'è il mio dio Ciro immobile Ciro immobile 87 di overall ragazzi 87 di overall Che devo dire? Che devo dire? Come sul calcio d'inizio Quindi riconfermiamo l'ipotesi che gli overalls del calcio d'inizio alla fine sono quelli definitivi ragazzi Praticamente al 95% 82 velocità 82 di driving 87 tiro e 76 di fisico Tanta ma tanta roba 4 stelle di piede debole e 3 stelle skill 4 stelle di piede debole veramente veramente buone per Ciro Andiamo avanti perché ancora non abbiamo finito con i giocatori di serie A ragazzi Non vi preoccupate Posizione numero 56 Alexis Sanchez Alexis Sanchez che ha ricevo un meno 2 quindi un bel downgrade E anche un bel downgrade di velocità ragazzi Se non erro aveva 89 di velocità non mi ricordo Ma comunque non aveva 82 di certo 82 di velocità per Alexis Sanchez L'hanno downgradata di un bel po' se non ricordo male 89 tripping 83 tiro 79 passaggi 77 fisico Sicuramente da quando è andato al Manchester United non è che abbia fatto chissà cosa Però secondo me il downgrade è un po' troppo eccessivo Parere mio Poi non lo so Altro giocatore di serie A ragazzi Vi ho detto che non abbiamo finito Calidu Coulibaly ragazzi Occhio a Coulibaly perché pure lui è veramente un carro armato 87 di overall per lui ragazzi Più 3 rispetto alla sua versione di FIFA 18 Non so se poi l'hanno upgradato FIFA 18 Non mi pare Comunque era 84 Più 3 ragazzi Tanta roba Ma se andiamo a vedere la velocità Pure lui l'hanno downgradato Perché io non penso che su FIFA 18 Coulibaly avesse 72 Ora mi ricordo la statistica precisa Però non penso proprio fosse 72 Quindi anche lui nonostante l'abbiano upgradato anche di un bel po' La velocità l'hanno ammazzata ragazzi È proprio una linea che stanno tenendo con tutti quanti i giocatori Oggi live stamattina abbiamo cercato di ragionarci insieme Se può essere o una linea che hanno adottato Magari c'è un'altra statistica nella velocità Che fa abbassare la velocità a tutti Purtroppo non abbiamo trovato una risposta Quindi solamente quando avremo il gioco in mano Effettivamente potremo provare al team e team Sapremo se questa velocità o è il gameplay che è diverso Oppure tutti sono più lenti Non si sa Finché non proviamo il gioco non possiamo saperlo purtroppo Andiamo avanti perché troviamo altro giocatore del Napoli Dries Mertens ragazzi 87 per lui 89 velocità 90 tripping 83 di tiro 55 di fisico 4 stelle 4 stelle Non vale da dire su di lui sinceramente Non l'hanno neanche downgradato a livello di velocità se non erro Quindi sicuramente un giocatore devastante per la serie A Continuiamo con la serie A perché troviamo i guardi Dopo immobile c'è anche i guardi 87 di overall per lui Quindi stesso overall di immobile 78 di velocità 4 punti in meno Quindi questo magari lo può rendere un po' meno utilizzabile 79 dribbling 85 tiro 72 di fisico 4 stelle 3 stelle Stessa cosa di immobile anche per i guardi Quindi vedremo un po' chi dei due sarà più utilizzabile Ma penso che immobile con 4 punti in più di velocità Un po' di più sicuramente verrà utilizzato Keylor Navas Posizione numero 52 del Real Madrid ovviamente 87 di overall per lui Il più 2 Non la dire su Keylor Navas ragazzi Alla fine secondo me non è meritatissimo Però Real ha vinto tutto come al solito Quindi gliel'hanno dato Però non è che Keylor Navas sia il portiere più forte della storia Secondo me Però va bene Andando avanti Piero Emerick Obey Mayanga Obey Mayanga Obey Mayanga Come cazzo si chiama pure lui E a lui hanno levato la velocità Cioè se hanno levato la velocità Obey Mayanga ragazzi È finita Ve lo dico Perché gli hanno levato 2 punti di velocità Se non erro Se non erro Ovviamente vado a memoria sempre 94 velocità 80 tripping 84 tiro 75 passaggi 70 di fisico 4 stelle 4 stelle Ragazzi hanno levato la velocità Obey Mayanga Ci dobbiamo fare un attimo la domanda Andres Iniesta Trasferito Si è lasciato il Barcellona Purtroppo Veramente Primo FIFA Con Iniesta Non a Barcellona Colpa al cuore Cazzo 87 di overall 69 di velocità Che mi sembra che sia di più Della sua carta di FIFA 18 Non so se ho detto una cazzata 70 di tiro 87 passaggio E 57 fisico Ragazzi Purtroppo Un campionato un po' Agghiacciante Quindi non so quanto lo potremmo usare Ma comunque Iniesta ci sta No comunque ho controllato L'hanno tanguritato pure a lui La velocità Però non così tanto In realtà Cioè Iniesta Magari la potevi downgradare Un po' più rispetto Mi pare che stanno andando Un po' a caso Posizione numero 48 Jordi Alba Jordi Alba che ho abusato Soprattutto nella sua versione Tots quest'anno Perché era veramente un drago 93 velocità 79 difesa 72 fisico 71 passaggio 83 dribbling 69 tiro Molto completo Magari non ha il fisico migliore Però la velocità Gli è rimasta altissima Quindi sicuramente verrà usato Anche lui Veramente tanto Vertonghi Nella posizione numero 48 63 di velocità per lui 87 di overall Con 88 difesa E 79 di fisico Sicuramente non è la prima scelta Per quanto riguarda la premia Abbiamo visto tantissimi altri difensori Anche più bassi di overall Che però Sembrano molto più buggati Quindi Vertonghi ne lascia un po' Il tempo che trova Il tempo che trova poverino Parlavamo di un altro giocatore francese Molto molto interessante Per quanto riguarda il reparto difensivo È proprio lui ragazzi Samuel Umtiti 87 per lui ragazzi Gli hanno dato un boost incredibile Che era 83 l'anno scorso Veramente un boost assurdo Per Umtiti E però Anche per lui La velocità ragazzi È quella che è Perché 72 di velocità Sinceramente Non capisco un po' Il modus operandi Che gli esports Sta adottando Per questi overall Però Sembra che stanno ammassando La velocità di tutti 88 di difesa 82 di fisico Con 71 di passaggio Che non ha fatto male Pure 64 di tiro Non lo butti 72 di me in manco Quindi Sicuramente lui Sarà un ottimo giocatore Bisogna vedere Quanto conterà la velocità Su questo gioco ragazzi Perché il difensore Con 72 di velocità Non dico che è poco Però Puoi trovare di meglio Ecco Torniamo a Napoli Con Amsic 87 di overall Per lui Quindi rimane 87 70 di velocità 80 di tiro 84 passaggio 84 di ping E 69 di fisico 5 stelle Piede debole Rimane comunque un ottimo giocatore Per il centrocampo Di una serie A Bella bella potente Romelu Luka Q Nella posizione Numero 45 Con 87 di overall 84 di velocità 84 di tiro 76 passaggio 87 di fisico Ragazzi Io l'ho provato E si sente tanto Quel fisico Quindi Occhio a Lukaku Anche quest'anno Si sentiva Ma un po' meno Perché vi ripeto I grossi sono più efficaci Quindi uno della stazza Di Lukaku Vi può dare Quel che in più 4 stelle di piede debole 3 stelle di skill Per Romelu E Luka Q Ultime posizioni Ragazzi Troviamo Ivar Rakitic Ivar Rakitic Con un 87 di overall E un 62 62 62 62 Non ho capito 62 di velocità Ok 84 84 di tiro 87 di passaggio 69 di fisico 82 di driving Con 72 di difesa Ragazzi 3 stelle 3 stelle Ma non capisco Questo è un grade La velocità Sinceramente Nonostante L'abbiano lasciato Dello stesso over Gli hanno levato 3 punti Mi sembra Della velocità Quindi Bo Incognita Incognita Andiamo avanti Posizione numero 43 Troviamo il Piqueton E il Piqueton Anche lui Rimane 87 Così come era Su FIFA 18 55 di velocità Allora io su Piquet Lo capirei anche Questo downgrade Della velocità Mi pare che avesse più di 60 Su FIFA 18 Non l'ho mai usato Quindi non ve lo so dire Però Vabbè ci può pure stare Su Piquet 87 di difesa 76 di fisico Non l'ho mai usato E non è che inizia a usarlo Su FIFA 19 Però 55 di difesa Scusate Di velocità L'hanno ammazzato pure a lui Ragazzi È finita È finita perché Kylian Kylian Mbappé 87 di over L'avete capito bene 87 Così come vi avevo detto Così come era nel calcio d'inizio 96 di velocità 89 di dribbling 81 di tiro 79 di passaggio 72 di fisico Con 5 stelle skill E 4 mosso abilità Ora Io non so quanto costerà Questo Mbappé Penso 3 o 4 reni Soprattutto all'inizio del gioco Però ragazzi Sarà un qualcosa di Illegale Penso Illegale in 48 stati Va bene che Mbappé Soprattutto al mondiale Ha fatto vedere Delle progressioni incredibili Quindi la velocità Ci potrebbe pure stare Ma io mi chiedo Con tutti i difensori Da un gradati A livello di velocità Suo giocatore Ragazzi Sarà Sarà infermabile Sarà infermabile Messo a D Anche per il fatto che Cross funzionano Te ne vai La metti in mezzo Ragazzi Se c'è un attaccante fisico In mezzo È la fine Io lo dico che è la fine Fidate di me È la fine ragazzi Mbappé costerà Un miliardo di crediti Probabilmente Ultimo Ma non per importanza Tiago Silva 88 di overall Per lui Anche lui mi ha impressionato Positivamente ragazzi Va bene che Tiago Silva Quindi è normale Però 71 di velocità Con 88 di overall Primo 88 che becchiamo 88 di difesa 79 di fisio 73 passaggio Il classico Tiago Silva Ragazzi Niente da dire Su di lui Allora ragazzi Che vi devo dire Fatemi sapere che cosa ne pensate Di questi overall Veramente ce ne stanno Un paio Veramente clamorosi Tipo Mbappé C'è cazzo Mbappé Ragazzi Coulibaly pure Umtiti Tanta 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 gente Di cui parlare Noi ci becchiamo Alla prossima Con le posizioni Dalla 41esima Alla 20esima Vi ringrazio per aver visto Questo video Trovate qua nelle schede Tutti gli altri Degli altri overall Se vi siete persi Ci becchiamo Alla prossima Ciao